Il prossimo argomento che andremo ad affrontare per la serie riservati a TypeScript sono gli enum. Gli enum sono una struttura, sono un tipo di dato abbastanza particolare che va a rappresentare delle scelte che devono essere fisse, come quasi se fosse la garanzia che uno switch andrà ad ottenere quel tipo di valori. E quando ne abbiamo bisogno? Beh, quando necessitiamo che una costante o una variabile corrisponda ad un valore scelto tra appunto una lista di valori e elementi a noi ben conosciuti. Per fare un esempio abbastanza pratico possiamo immaginare di avere i posti dell'aereo che di per sé hanno delle file, però poi sono rappresentati da una serie di opzioni che possono essere A, B, C, D, E ed F. Se io dovesse rappresentare questa struttura appunto con quello che è, sono gli strumenti che ho a disposizione in questo momento, potrei avere magari appunto un finestrino che magari uguale a 0, cost centrale, 1, 1, e poi possiamo mettere corridoio, 2. E poi vado ad assegnare appunto a const di posto magari uno di questi elementi. Ora a questo punto se, ora come vedete, sì, questa soluzione è abbastanza efficace, ma come possiamo vedere, io mi ritrovo nella posizione che se comunque assegnassi a posto il valore di 4, non ci sarebbe assolutamente alcun problema, tutto quanto funzionerebbe. Ora, quello che si può fare in TypeScript per andare a risolvere questa soluzione è quello di andare ad avere che banalmente, banalmente, che andiamo a definire quello che è un inam, che ho posto, e posto avrà come valore finestrino, centrale e corredonio. Ora, a questo punto io mi ritrovo che se facessi un over su questi elementi, mi ritrovo appunto con i valori che corrispondono a 0, 1, e 2. Io a questo punto posso andare a dire che il posto è di tipo posto, e quindi io posso andare ad assegnarli come valori o appunto 0, 1, e 2, oppure posso andare ad utilizzare posto punto finestrino, e questo andrà a restituirmi appunto quello che è il valore di 0. Posso andare ad assegnare i valori che voglio, se io qua voglio metterci 32, come vedete tengo 32, 33 e 34. La differenza invece se andassi a inserire un valore che è, ad esempio, a, loro hanno un errore, perché devono essere inizializzati a loro volta. Vado a dargli c. La differenza sostanziale è che io qua non posso andare a assegnare direttamente quello che è il valore di a, ma devo per forza passare da quello che è posto punto finestrino. Un'altra cosa molto importante a notare è quello che effettivamente succede al mio codice. Utilizzando la struttura appunto che definisce questo come una costante di posto, ottengo qualcosa di abbastanza sensato rispetto a quello che è il javascript che vado a scrivere. Occhio che se io andasse a eliminare quello che è la costante di posto, quindi non è più una costante ma è la definizione di un inam, ecco che ottengo la definizione di questo tipo di struttura che, a parte che prevede molto codice, ma ci ritroviamo di fronte a quella che è una ifi. Una ifi altro non è che è una funzione che viene invocata non appena viene definita, quindi la definizione della funzione e la sua invocazione sono direttamente successive. va andrà a definire quello che è un oggetto posto che avrà questi valori al suo interno. Questi sono un po' gli inam. Ammetto che sono una struttura abbastanza strana, ci sono soluzioni alternative per andare a ottenere questo tipo di risultato, però per chi si inciamperà in questo tipo di codice ho avuto bisogno di avere una restrizione abbastanza forte di quelle che sono la tipologia di valore che può assumere una certa costante o un certo valore che debbano essere dentro un range di valori da noi prestabilito, l'inam sono sicuramente una scelta comunque valida.